Ciao a tutti, questo video per aggiornarvi un po' sui miei libri, sul mio progetto editoriale in generale. Sono passati un po' di mesi dall'ultima volta che vi ho dato degli aggiornamenti, appunto a gennaio quando ho fatto la presentazione al Circo l'Arceborgo Nuovo sulla mia ultima opera pubblicata L'erede di Eiligt, libro 1 e libro 2 appunto, sono due libri, due volumi, però appunto come dicono, come si dice in inglese, no? I of you an explanation, vedevo una spiegazione, perché? Perché nel corso del tempo, non solo negli ultimi mesi, ma anche prima, in realtà, appunto, insomma, diverse persone mi hanno chiesto, ma quando presenti il libro là, ma quando lo presenti lì, ma lo trovo laggiù, ma andrai alla fiera Izz, alla fiera Izzilo, vi devo una spiegazione, o altri mi chiedono appunto una delle domande che mi vengono fatte, è quante copie hai venduto, no? Allora, queste sono tutte domande che io capisco, ma appunto per spiegarvi questa cosa, cioè il punto è che magari determinate cose dall'esterno sembrano semplici, ma non lo sono, non lo sono, e quindi io non so quanto verrà lungo questo video, però voglio dirvele tutte e quindi spero che lo ascolterete tutto, lo vedrete tutto fino a un fondo per avere appunto delle risposte su queste, su questi quesiti e tanti altri. E per rispondere parto da una riflessione generale. In realtà in Italia è molto molto difficile scrivere, molto difficile pubblicare, molto 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 difficile promuovere dei libri. Questo perché? Perché, fateci caso, le grandi, soprattutto le grandi, le medio piccole pure, ma soprattutto le grandi case editrici pubblicano essenzialmente in Italia solamente libri o di persone raccomandate, amici di, parenti di, oppure libri che o sono di persone facoltose che se la possono permettere, oppure sono libri, nella stragrande maggioranza di casi, o di politici, o comunque di persone conosciute, come i vari caro figlio, piuttosto che Fabio Volo, i vari Renzi, piuttosto che appunto anche dei fenomeni, no? Come la cosiddetta, mi scappa da ridere, professoressa di corsivo, che non è una professoressa, ma che ha pubblicato un libro con una grande case editrice, ma perché l'ha pubblicato? Come ha fatto a pubblicarlo? Molto probabilmente è quella case editrice che ha cercato quella persona lì e gli ha fatto pubblicare il libro perché aveva visto che aveva avuto dei video con un tot di visualizzazioni, quindi dice allora glielo leggeranno tanti, no? Cioè nel senso le grandi case editrici, anche le medie piccole, in Italia, è un fenomeno soprattutto italiano, difficilmente, anzi mai praticamente pubblicano un libro dopo averlo letto, cioè te gli mandi il manoscritto, ok? Gli mandi il manoscritto, loro te lo leggono, no? Dovrebbe funzionare così, in altri paesi effettivamente funzionano così, dovrebbero leggerlo e poi dopo dirti se te lo pubblicano o no, ok? Invece lì guardano più che altro l'autore, se l'autore non è conosciuto, allora o non ha appunto magari appunto ha delle visualizzazioni, tanti follower o roba del genere, allora se si hanno quel, fanno dei calcoli e magari te lo pubblicano, se no solamente se sei una persona famosa, se non lo sei non lo prendono neanche in considerazione e neanche ti rispondono, ok? Questa è la base ragazzi, questa è la base di come funziona in Italia, in Italia. Quindi le grandi case editrici, non solo le grandi, soprattutto le grandi, fanno così, per quanto riguarda i libri italiani si muovono in questo modo, poi cosa fanno? Ripubblicano, cioè pubblicano edizioni italiane di libri stranieri. Perché? Perché magari si tratta di autori che funzionano all'estero e quindi dicono vediamo se funziona anche in Italia. Questo è l'unico margine di rischio che veramente si prendono. Per il resto loro, cioè in Italia non c'è, non solo nella scrittura, eh? Intendiamoci, è un fenomeno che vale in generale, cioè non si investe sui giovani, non si investe sul nuovo, non si prendono dei rischi, ok? Quindi banalmente loro non ti prendono neanche in considerazione se non sei, no? Di certe categorie in Italia. In altri stati, come nei paesi anglosassoni, magari sì, ok? Questa, diciamo per essere, per dirla tutta, ok? Quindi non è semplice e non è semplice promuovere un libro. Ora, come voi, come la maggioranza di voi saprà, io non sono uno scrittore professionista, se dovessi passare la mia vita a scrivere bust e accampare di quello morirei di fame, ok? Ma questo non perché, diciamo, perché appunto, come dire, perché la gente non legge, ok? Quello è un altro fenomeno, è un altro fenomeno. La questione è che, appunto, come ho detto, non è semplice promuoversi. E in realtà dovete sapere che la stragrande maggioranza degli scrittori, degli scrittori veri, non degli iscriventi come politici o personaggi famosi degli scrittori veri in Italia, sono tutte persone che non fanno solo il mestiere dello scrittore, ma che fanno anche altre, fanno anche un altro lavoro, o meglio, fanno un lavoro e poi per passione scrivono, ok? Questi sono il 90% degli scrittori veri in Italia, veri. Quelli che possono campare solo grazie ai proventi dei loro libri sono veramente pochissimi, ok? E sono persone che o lo fanno da tutta una vita, o se lo possano permettere, oppure, appunto, fanno parte di determinate categorie. Il resto sono tutte persone che lavorano e scrivono. E io lavoro, ok? Partiamo da questo dato di fatto. Solo che molte delle persone che scrivono e lavorano, fanno solo quello, o quasi, nella vita. Nel senso che, appunto, la loro passione è tale per cui, anche comprensibilmente, eh, loro si gettano, cioè il loro tempo libero è per il 99% del tempo direzionato alla scrittura. Poi magari si prendono dei periodi di pausa, però loro lavorano e quando non lavorano scrivono. Cioè, è una vita binaria, sostanzialmente. A differenza di loro, io non faccio solo queste due cose. Cioè, questo è il punto. Io non faccio solamente queste due cose. Io lavoro, scrivo, sto facendo un master. Prima facevo il CLIL, fino a dicembre, ora un master. Poi, ehm, sono impegnato nell'associazionismo. Io ho anche tante altre passioni. Anche l'attività fisica richiede del tempo. Ci sono persone, le conosco, che, eh, la loro vita è lavoro, palestra, o lavoro, sport e basta, o quasi. Ecco, il mio è lavoro, scrittura, associazionismo, master e tante altre cose. Un po' di attività fisica ho compreso. Quindi, in tutto questo, per dire che non è semplice. Quindi, e io non ho uno staff dietro, vero e proprio, ok? Certamente ho cercato di, di, come dire, di professionalizzare un minimo, ma non ho un vero e proprio staff dietro e non ho una vera e proprio casa editrice dietro. Ci sono tre tipologie di, ehm, cioè, gli scrittori si dividono in tre cerchie a seconda di, di come sono, come dire, configurati, diciamo così. Ci sono gli scrittori, ehm, che, appunto, hanno una casa editrice alle spalle, che sono una minoranza, in realtà, almeno di scrittori veri, poi ci sono tanti iscriventi. Poi, ci sono gli scrittori indipendenti e i self, che sono due cose distinte. Io sono un self. Quali sono gli scrittori indipendenti? Gli scrittori indipendenti sono quegli scrittori che, mh, come dire, o mettendosi insieme ad altri scrittori, o anche da soli aprono una propria casa editrice per pubblicare i propri libri. Ok? Questo, eh, cosa vuol dire? Vuol dire che l'autore si fa da casa editrice. È come essere una partita IVA, sostanzialmente. Ok? Però, qual è il problema? Perché poi, alla fine, è come aprire una casa editrice a tuo nome. Ok? Eh, io non lo sono. Per poterlo fare, io conosco, anche tra, tra scrittori che conosco, appunto, conosco realtà simili, però, per potervi partecipare, ci sono dei requisiti. Ad esempio, bisogna avere un editor professionista. Io un editor professionista non ce l'ho e non mi interessa nemmeno averlo, perché a me non interessa avere, non mi serve una persona che mi edita un libro. Ok? È una cosa che posso fare tranquillamente da solo. Ok? Semmai, ed è una cosa che, diciamo, su cui vorrei lavorare, quello che, di cui avrei bisogno, è una persona che magari scrive al posto mio determinati contenuti. E quindi è una persona che condivide con me questo progetto e che mi può portare avanti determinate realizzazioni. Ok? Però, appunto, non è così semplice, perché io non ho una disponibilità economica tale da potermi permettere chissà quali spese. Quindi bisogna che sia una persona che prima condivide il progetto e poi dopo parliamo del resto. Anche perché, come maggioranza di voi saprà, tutti i libri, almeno quelli pubblicati, che ho pubblicato fino ad adesso, sono dei libri di uno profit. Quindi io non posso e non ho neanche, diciamo, l'interesse a guadagnarci. Ok? I proventi, infatti, vanno al circolo Borgo Nuovo. No? Quindi non ci posso perdere, non ci voglio perdere, però, appunto, eventuali guadagni in più vanno al circolo Borgo Nuovo. Ok? Quindi, per dire. Perciò è chiaro che io non è che posso permettere di spendere migliaia di euro per pagare una persona. Ok? Per qualsiasi ruolo, eh? Anche per la traduzione, per tradurlo in un libro, insomma, per esempio mi sono stati proposti preventivi da migliaia di euro. E io non me li posso permettere. Questa è la pura verità. Ok? E pertanto, questo per dire un po' quelle che sono le difficoltà. Quindi io non posso partecipare e diventare un autore indipendente perché non mi interessa avere un editor professionista. E non solo, ma comunque non risolverebbe il problema della promozione. E tra poco ci arrivo. Self. Self cosa vuol dire? Vuol dire che tu ti appoggia alla piattaforma editoriale, come ho fatto io, nel mio caso Streetlib, che ringrazio in ogni caso, che ti offrono alcuni servizi, si prendono una commissione e ti danno una piccola mano sulla promozione. Però il grosso devi fare da te. Quindi a livello indipendente, cioè se sei sotto una casa editrice, è la casa editrice che è interessata a promuovere i tuoi libri che ci guadagna. Ok? Se invece sei indipendente, devi fare tutto da te. Se sei self, il grosso comunque, il 99% devi fare da te. Cosa vuol dire? Vuol dire che loro mi danno la possibilità di pubblicare sugli store, sui principali store che ci sono, a livello italiano e internazionale. Però attenzione, l'ebook lo trovate, ma se andate in un negozio fisico, per esempio, ora non voglio fare nomi. Però ci sono grandi case editrici su cui vendo, cioè sui quali store io vendo. Però se voi andate in una libreria, non troverete mai un mio libro fisico presente lì, non troverete mai delle copie cartacee. Perché io, cioè perché funziona così, cioè i self non possono pubblicare delle copie cartacee, perché non è la casa editrice che ti paga, che paga per delle copie cartacee. Ok? Perché non stai pubblicando tramite la casa editrice. Ok? E la piattaforma editoriale non lo fa questo servizio. Quello che fa è dare la possibilità della stampa su richiesta. Quindi se voi andate in una libreria e chiedete un mio libro, di averlo cartaceo, voi lo potete prenotare. Potete anche, andando sui Sisi, lo trovate, perché fanno parte del catalogo. Quindi li trovate, li ordinate, ve li mandano a casa. Ok? O nella sede di lavoro o dove volete. Ok? Quindi è così che funziona. Quindi io non ce li ho, non vedrete mai il mio libro fisico, però lo potete ordinare. Ok? O lo potete prenotare in una libreria. È così che funziona. Ok? Ok? Però appunto la promozione non è semplice. Ok? Non è semplice. E qui si arriva, poi si arriva, dice perché non vai nelle fiere. Ok? Allora, io non vado nelle fiere perché, come tipo Luca Comics, tipo Romics, tipo c'è quello di Napoli, la festa dell'unicolo, ce ne sono tante, ce ne sono diverse. Ma perché non ci vado? perché in realtà andare in una fiera è dispendioso, è controproducente. Ok? Cioè ci va in perdita. Ok? Io conosco delle persone, scrittori, scrittrici, che ci vanno. Però il punto è che almeno per quello che mi riguarda il gioco non vale la candela. Perché? Per poter avere uno spazio all'interno di un banchino, va bene? Devi pagare un tot. Ok? Ti devi sentire, no? scrittori che fanno queste cose e pagare. Perché devi pagare. Ok? Poi a seconda di chi senti ti devi pagare magari di più o di meno. Però c'è da pagare. Ok? Ora, se si trova in un, come dire, in un posto che non è vicino a casa tua, te ti devi anche spostare. Ti devi spostare, probabilmente devi anche dormire lì, devi mangiare lì, quindi c'hai tutte queste spese. Più ti devi portare te delle copie cartacee e devi sperare di venderle. Ok? Quindi bisogna anche saperci fare. Però quante copie? I libri pesano e devi pagarti gli libri che stampi. non è che c'è qualcuno che te li paga, te li stampi, te li fai stampare, ma fai la stampa su richiesta, te li paghi e allora certamente un autore che fa stampare i propri libri spende di meno, ma c'hai da pagare. Spendi magari su 20 euro ne spendi più di 10 comunque. E allora, quante copie ti porti? Più ne porti, più ne hai da vendere, ma più prima spendi. Ok? E più hai il rischio che ti rimangano. Poi, che fai? Vai lì per un giorno solo? Probabilmente sono anche più giorni. Perché se vai per un giorno solo serve a poco. quindi devi spendere di più. Quindi vai lì, poi te piazzi le tue copie e devi sperare di vendere. E non è così semplice. Devi stare lì dalla mattina alla sera, coi freddo, coi caldo, se piove, tira vento, devi stare lì e cercare di convincere qualcuno a comprare i tuoi libri. Vi assicuro che non è semplice. Ok? Quindi il rischio di andare in perdita è assicurato. Certo, magari poi riesci a vendere quelle due, tre, quattro, cinque copie, io non lo so. Ma se devi andare in perdita di 300 euro, 500, di 1000 euro, per me che sono libri no profit, io non lo faccio e non me lo posso neanche permettere, non lo faccio. Ok? Questo per quanto riguarda le fiere. Dice, trovati una casa editrice. Forse è semplice. Non è così semplice, ve l'ho detto. Le case editrici in Italia funzionano più o meno in quel modo, soprattutto le grandi. E ci sono tre tipi di case editrici. Ci sono due, le case editrici appunto, come ve l'ho descritti, che sono case editrici grosse, strutturate, che potrebbero investire, eccetera, ma non lo fanno. Due, ci sono quelle che ti fanno pagare. E tra di noi, tra di noi scrittori, c'è questa, c'è questo detto. Se ti fanno, ti chiedono di pagare, scappa. Ok? Perché vuol dire che la casa editrice non è seria. Poi ci sono le case editrici serie, che sono però piccoline, hanno magari poco personale e non è detto che ti rispondano, non è detto che ti pubblicano il libro, insomma, ma sono poche. Io ho mandato diciamo, una proposta a una casa editrice piccola. Però ancora non ho avuto alcuna risposta e sono passati diversi mesi. Quindi, come vedete, non è così semplice. Passiamo alla promozione. Allora, promuovere un libro non è una cosa semplice. Un conto è promuovere il libro sui social. Già fare una campagna coupon, cosa che io ho fatto questo inverno, non è una cosa semplice. Perché? Cosa sono i coupon? I coupon sono dei codici e ti generi dei codici, devi pagare per generare i codici, non è gratis. Ok? Quindi io pago, questa è la procedura, io pago per generare dei codici, un certo numero di codici, in modo tale poi io questi codici li mando a delle persone e queste persone possono con quel codice lì o scaricare, cioè avere uno dei miei libri in formato ebook gratuitamente o comunque a prezzo ridotto. Ok? Stiamo parlando di ebook. Ok? Ok. Però i coupon hanno una scadenza. Quindi se te lo mandi a determinate persone, gli dici guarda, usa entro questa scadenza e quella persona non lo fa, te c'hai persa e basta. Quindi non è così semplice. Alcune persone a cui ho mandato il coupon non l'hanno usato. Avevo la possibilità di crearne un certo numero gratuitamente all'inizio. L'ho fatto, ma solo alcune persone lo hanno utilizzato, almeno entro la scadenza. Dopo non era più valido. E poi i coupon comunque sono una campagna pubblicità, cioè promozionale, ma non la puoi utilizzare per arrivare a chissà quante persone, perché comunque poi quelle persone lì, cioè te paghi, perché devi pagare. E poi quelle persone lì, ok, magari si prendono il ebook gratis. Va bene, ma per me è una perdita. E quindi non posso mica fare per centinaia o mille persone. Ok? Ok. Le presentazioni. Io, come sapete, come alcuni di voi sapranno, io sono stato dirigente di circolo per tre anni, praticamente, quasi, no, anzi di più, per quasi sei anni, per cinque anni praticamente, eh? Circa. E ancora, appunto, sono dunque vicino al circolo Gorgonovo, anche se non ho loro ruoli. Quello pubblicità. Le presentazioni di un libro non sono tre più semplici, non sono neanche più complessi da organizzare. Se sei l'organizzatore dell'evento, ok? Non se sei l'autore. Se sei l'autore è molto più difficile. Ma se sei un organizzatore di eventi, come lo ero io, non è così complicato. Alla fine basta contattare l'autore, trovare un giorno, vedere come orchestrare la serata e si va. Fare un volantino, promuovere. Però, e questo vale a prescindere se sei un autore o se sei l'organizzatore degli eventi, eh, una presentazione, cioè, eh, tra tutti i tipi di eventi, la presentazione di un libro è l'evento che è più difficile da far riuscire in modo pieno. Cioè, far partecipare le persone ad altri tipi di evento, come può essere un concerto o una serata di ballo o una cena, è molto più semplice che non farle partecipare ad una presentazione di un libro. Non è semplice far venire gente alla presentazione di un libro. O hai appunto un personaggio veramente famoso e allora la gente ti ci viene, altrimenti, altrimenti, è molto complicato. Ed ecco perché io ho fatto per ora almeno pochissime presentazioni. Perché non è semplice. A prescindere dal libro, non c'entra nulla il libro. È che, e non c'entro nulla neanche io, è proprio che è complicato. E se sei un autore, un conto è se sono gli altri che ti cercano, che vogliono organizzare. Ma se sei l'autore, non la vendo una casa editrice alle spalle, è molto più complicato. Io ho un accordo con alcuni, con alcune case editrici su cui vendo, sui quali sto orvendo, per poter fare delle presentazioni, organizzare le presentazioni nelle loro librerie. Ok? Ok. Però dipende dalle singole librerie. Cioè, sono le singole librerie che decidono se organizzare o meno una presentazione sui tuoi libri. Ok. Ora, cosa succede? Che io, chiaramente, non mi sono neanche messo a organizzare una presentazione in luoghi dove non sono conosciuto. Perché so già che, anche se riuscisse a organizzarla, sarebbe un flop. Lo dico così onestamente. Cioè, se io organizzo una presentazione dove non mi conosce nessuno, mi dovrei spostare, quindi dovrei spendere per spostarmi, per fare una roba dove probabilmente parteciperei io, io, io e altri che io. O giù di lì. Ho cercato di organizzare delle presentazioni in posti a me vicini, in posti dove sono conosciuto. Ora, appunto, sono riuscito a organizzarle al Circolo Borgo Nuovo, al Circolo Arci di San Paolo, lì le ho fatte. E, però, appunto, in altri posti, invece, dove, invece, appunto, ho mandato la... ho mandato un'email, ho richiesto se per caso erano interessati, anche librerie di queste note case editrici, dopo avermi detto, almeno in un caso, mandaci, scrivi qua, eccetera, quindi aver dato un'apparente disponibilità, ma non mi hanno, almeno per ora, mesi, mai fatto sapere niente. Quindi, te mandi la proposta, ma non è detto neanche che ti rispondano, basta per tu, per quale motivo. Cioè, anche solo per dire, no, guardi, non siamo interessati, potrebbero rispondere. Questo per dirvi quanto è difficile. Ecco perché non ho fatto la presentazione in un determinato luogo, piuttosto che in un altro. Perché se non ho una risposta, non posso organizzare io, ok? Non sono io l'organizzatore. Io propongo. E da una parte li capisco, perché dicono, eh, questo chi lo conosce... E non... E però io vi posso già dire, che nonostante tutte queste difficoltà, sono tra gli scrittori che hanno venduto di più in Italia, ok? Perché? Perché, purtroppo, ci sono moltissime persone, moltissimi scrittori, ci sono degli scrittori che hanno pubblicato dei libri senza vendere neanche una copia, ok? Io sono già a più di 100, ok? Ok? Quindi sono già, paradossalmente, perché sembra un numero basso, ma sono già alto come risultato. rispetto a tantissimi altri. Ricordo un mio professore che aveva pubblicato un libro, in quel caso di probabilità, era un libro di studio, più alto, universitario, però ne aveva pubblicato tipo 21 copie, una cosa... non ne aveva pubblicate tantissime, ok? per dire, ecco, io ne ho... ne ho vendute di più, ecco, insomma, sostanzialmente, quindi, già questo. Questo per dire un po' le difficoltà, in generale, e... e vi dico sull'esistente, sull'esistente, non è che sono, sono fermo. È che non è facile perché io non ho uno staff strutturato. Nel senso che, alla fin fine, dato che, come vi avevo detto, il progetto editoriale è molto complesso, quindi ci sono molti libri, approfondimenti, ci sono varie cose, e anche prodotti derivati, perché ci sono anche prodotti derivati, almeno idee per prodotti derivati, non è semplice realizzarle, non è semplice portare avanti tutte. Per questo ho detto, cioè, vorrei trovare una persona che condividesse questo progetto e che mi aiutasse in questo tipo di lavoro. Ok? Perché mi aiuterebbe parecchio? Ok? Perché? Per quanto riguarda l'esistente, attualmente sono impegnato nel tempo libero, diciamo, che ho, sto cercando di trovare un modo per, diciamo, di dare sostanzialmente in beneficenza, veramente, alcune copie fisiche che ho in casa del mio primo libro. Dragon Ball, la guida perfetta. Ok? Questo perché? Perché, come ho detto, non mi interessa, io lì l'ho già ripreso, non mi interessa, quindi non sono in perdita, perciò darle anche gratuitamente non mi creerebbe grossi problemi e appunto, vorrei darle a associazioni o realtà, anche biblioteche, in modo tale da diffondere un po' questo libro. e anche perché, come voi sapete, il brand Dragon Ball sta andando avanti e questo libro è uscito nel 2018, quindi, prima o poi dovrò fare, più prima che poi, probabilmente, dovrò fare una seconda edizione. Per poter fare una seconda edizione, quando uscirà la seconda edizione, la prima edizione non sarà più pubblicata, insomma, inutile venderla, nel senso, dirò, di comprare la seconda edizione, ovviamente, sarà quella aggiornata. Poi, per carità, se uno vuole proprio la prima edizione, perché è vintage, si farà avere, insomma. E, però, ecco, quindi, sono passati cinque anni, da quando, quasi cinque anni, cinque anni a settembre, perciò, perciò, anche qui, se qualcuno conosce associazioni, organizzazioni, carceri, biblioteche, bar, no? O realtà, che potrebbero essere disponibili ad avere una copia gratuita, gratuita, del mio primo libro, insomma, contattatemi e sarò più che lieto. Quindi, una realtà l'ho già contattata, sto aspettando risposta e vedremo, ecco, quindi, questa cosa la sto facendo, perché ci tengo, e proprio perché mi serve, proprio, in ottica, poi, della seconda edizione, in modo da, da non avere più in casa copie della, della prima edizione, perché non mi serviranno più, quindi, tanto vale darle via, insomma, darle a chi può averne bisogno e diffondere un po', questa cosa. Poi, ehm, allora, sto andando avanti su progetti derivati, ando avanti a un parolone, ma insomma, allora, lì, quello che vorrei fare io, è una, a parte, ho una, ho una, sceneggiatura, almeno bozza, per un musical, tratto dal mio ultimo, dalla mia ultima opera, ma, ehm, al di là di quello, che lì mi servirebbe un regista, eh, per poter andare avanti, mh, quindi, anche lì, se c'è qualche regista, se qualcuno conosce qualche regista, insomma, mi può contattare, vediamo, ma al di là di questo, appunto, vorrei realizzare una web serie, o uno spettacolo teatrale, una web serie sarebbe più interessante, anche senza, attori professionisti, quindi, se c'è qualcuno di voi, ragazzo, ragazza, che si vuole cimentare, che vuole provare questa esperienza, parliamone, insomma, perché, insomma, voi vi fate le ossa, potete fare questa esperienza, e, tratto sempre dalla mia ultima opera, che è quella che, insomma, è il corpo, e di tutto il resto, quindi, insomma, ci tengo, e, quindi, queste sono le cose, perché, anche lì, non è semplice da realizzare, però, chiaramente, anche lì, non aspettatevi, di avere paga, di migliaia di euro, perché, non è così, che possiamo farlo, ecco, insomma, se volete migliaia di euro, no, sul resto, ne possiamo parlare, nel senso, visibilità, crediti, e, tante altre cose, insomma, ne parliamo, in privata sede, vediamo un po' come fare, poi, ho il, ho il, videogioco, tratto dal secondo libro, e lì sono un po' in stand by, in che senso? Nel senso che, vi posso assicurare, da informatico, che tra tutte le cose, che si possono fare, nel mondo dell'informatica, realizzare un videogioco, è la cosa più difficile di tutte, più difficile anche, della cyber security, ok, è proprio la cosa più difficile di tutte, più difficile anche, della quantistica, ok, è molto complicata, anche perché, i videogiochi al giorno d'oggi, sono 90% grafica, e 10% programmazione, quel 10% è la morte, però si deve abbinare al 90%, che non è la morte, è un genocidio, ok, nel senso che, io non sono un grande grafico, non ho doti grafiche particolari, sono riuscito a realizzare, alcune cosettine, il menu, insomma, alcune cose di base, sono riuscito a farle, ho la storia, ho la trama, ho tutto, mi manca, la realizzazione, della parte grafica, che in Unreal Engine, non è semplice, e anche lì, anche appunto, sentire la mia disegnatrice, o qualcun altro, sono soldi, ecco, insomma, in questo momento, non me lo posso permettere, perciò sono un po' bloccato, da questo punto di vista, e poi, se qualcuno vuole proporsi, dare una mano, ben venga, insomma, anche lì, insomma, campo aperto, se ne parla, ho provato anche a vedere, no, sapete, intelligenze artificiali, qua non sto parlando di ChatGPT, ma di roba un attimino più seria, ChatGPT non è molto serio, cioè non è serio, non è molto serio, non è serio, è una barzelletta, cioè tra le intelligenze artificiali, quelle intelligenze artificiali di quel tipo lì, sono una barzelletta, che se ne voglia dire, per quanto vengono presentate, com'è, ma sono una barzelletta, in realtà, ci sono, intelligenze artificiali, utilizzi, intelligenze artificiali, molto più sensate e utili, tra questi, ci sono delle intelligenze artificiali, basate sulla grafica, ok, alcune le utilizzano, insomma, ci studiano un po' anche, disegnatori e disegnatiche, è un listo, illustratori e illustratiche, quindi, insomma, sono prodotti interessanti, però, il problema è che, in realtà, anche questi, sono pieni di errori, nel senso, anche se gli, gli fornisci, delle informazioni, dettagliate, cioè, anche lì, o paghi, se paghi, allora c'è un prodotto, molto più, diciamo, più strong, eh, che è quello che, hanno utilizzato in America, per fare, il fotomontaggio, con, Trump, arrestato, quella intelligenza artificiale, lì, ora mi sfugge il nome, però, è molto potente, però, è a pagamento, ecco, io, chiaramente, non ne ho usate a pagamento, ne ho usate alcune, gratuite, e i risultati, sono perosi, quindi, anche per generare, dire, immagini, le immagini che servono a me, per i personaggi del videogioco, perché lì, è quello che mi serve, mi serve, a me servirebbero, delle immagini, no, di un certo formato, per il videogioco, per i personaggi, in modo tale, da poi, la trasformazione, in modo da abbinare, singole immagini, perché ho bisogno di un tot di immagini, in posizione diversa, del singolo personaggio, in modo da, da prenderle, e, unificare, in un formato particolare, animato, utilizzabile, appunto, per il videogioco, cosa che farei io, insomma, che so più o meno, come fare, però, la realizzazione, dei singoli personaggi, invece, quella mi crea, sono singole immagini, e quella mi crea, mi crea molta difficoltà, sono bloccato, su questa parte qua, quindi, anche qua, se c'è qualcuno, che si vuole proporre, benvenga, per quanto riguarda il nuovo, cioè, what's next, eh, allora, chiaramente, anche qua, per questo, avrei bisogno, di una persona, che, mi dà la mano, sulla scrittura, perché, perché chiaramente, se io vado avanti, sul, su, io, come, avevo detto, devo realizzare, due libri, di approfondimenti, sul, sul mio ultimo, sulla mia ultima opera, L'erede di Eilith, due libri, di approfondimenti, cioè, un libro di approfondimenti, e un libro di spin off, ok, poi ci sarà, ci sarà il quarto libro, poi, come ho detto, ci deve essere, la seconda edizione, il primo, anche, ecco, in tutto questo, è chiaro, che se io vado avanti, sul, libro di spin off, cosa che sto facendo, non vado avanti, con quello, degli approfondimenti, anche perché, in quello, degli approfondimenti, vorrei metterci, anche la roba, degli spin off, e non vado avanti, non ho neanche, iniziato a scrivere, il quarto volume, ok, quindi, perché se scrivo una cosa, mi concentro su quella, non posso portare avanti altre, ok, altri scrittori, come, come, Cassandra Clare, mi sembra, la stessa, la stessa Rowling, insomma, ci sono scrittori, che, anche, anche, George Martin, mi sembra, ci sono scrittori, che, hanno, altre persone, a cui, delegano, alcune, alcune opere, almeno, parti, di opere, quindi, insomma, e io non ce l'ho al momento, io, devo fare tutto da me, se faccio una cosa, non ne faccio un'altra, quindi, anche qua, se c'è qualcuno, o qualcuna, che, insomma, ha tempo e voglia, di, di, di provare a fare questa cosa, mi contatti, e mi faccia sapere, quindi, cosa sto facendo, sto portando avanti, il libro degli spin off, che cosa ci sarà, nel libro degli spin off, eh, verranno date, delle risposte, a delle domande, che rimangono aperte, nel, nel libro, nei due libri, insomma, principali, dell'erede di Eiligt, e quindi, scopriremo, all'esempio, le origini dell'universo, scopriremo, eh, perché Slasgo, il signore di Saturno, a questi, eh, questi anelli, che c'è, perché è stato punito, no? Cioè, si sa il perché, nel libro, eh, nelle rede di Eiligt, libro 1, parte 4, c'è scritto il perché, eh, però, non si, non si è vista la storia, cioè, si sa, che è stato punito, per questa cosa, ma perché lui fa questa cosa? Qual è la storia dietro? Cioè, perché, che uccide il signore di Sedna, no? Ecco, insomma, questa è un po', è un po' la cosa. Oppure, eh, appunto, si scoprono informazioni, eh, sia sulla storia di Saiyan, ma più che altro, proprio anche sul, su Dria, e non solo, su Pensilala, insomma, su Mongal, no? Questo personaggio, crea figlio del destino, così, insomma, più, tutta una serie di approfondimenti, insomma, di approfondimenti, di spin-off, con altri nemici, altri avversari, altre storie, side stories, non raccontate, nel, nel libro, nei libri principali, ecco. E, eh, ci saranno, inoltre, quindi, sia, sono dei raccontini, gran parte di questi, sono dei raccontini, però, ci saranno delle opere più grosse, mh, ci sarà, uno, spin-off su, eh, trans, ce n'è uno, anche su Dria, sul, decennio, più o meno, le avventure, che ha, eh, sulla terra, prima, prima, sostanzialmente, l'inizio della storia, del libro, e, eh, e non solo sulla terra, in realtà, perché lui diventa re dei Jedi, perché diventa, come fa a diventare, allievo di, no? quello che succede, insomma, di diverse cose, talmente tanti, che sarà, un po' di roba, e, poi ci saranno, tre spin-off, più altri raccontini, ambientati dopo, il finale, dell'Eredity Island, parte 2, quindi ambientati dopo, dove ci saranno, nipoti e pronipoti, di, mh, e ci saranno avversari interessanti, cose interessanti, si sapranno altre cose in più, sulla forza dei tempi, no? che è questo famoso livello, stadio, che non è solo dei seiani, ma è di tutti, molto particolare, se andrà oltre, ci saranno dei livelli oltre, dei gradi oltre, e, e sarà, il perfetto antipasto, ci saranno tre spin-off, questi, uno di seguito all'altro, che saranno, il, l'antipasto, e il collante, con il quarto, volume, ok? quindi, questo sarà, un libro, totalmente, con tutti i raccontini, spin-off, eccetera, veramente, da non perdere, ok? mi ci vorrà ancora del tempo, però, sono già, oltre 60 pagine, quindi, insomma, un po' di roba, l'ho già scritta, ecco, altra, la devo scrivere, ma, su quello si procede, siamo a oltre 51 minuti, quindi, io vi saluto qua, e per qualsiasi cosa, contattatemi, ciao! e per qualsiasi cosa, e per qualsiasi cosa,